I telefoni più costosi al mondo, hashtag poveri All'ultima posizione il Virtus Signature Diamond che puoi acquistare a soli 88.000 dollari Ne sono stati realizzati solo 200 con corpo in platino e diamanti incastonati iPhone Princess Plus del valore di 176.000 dollari E' stato progettato dal designer austriaco Peter Aloysson ed è realizzato in oro e diamanti Il Black Diamond della VIPN dalla modica cifra di 300.000 dollari Un po' bruttino questo, comunque se sei paura com'è scriviti Il Virtus Signature Cobra da 360.000 dollari Vabbè hanno aggiunto un serpentello al primo con diamanti bianchi, due smeraldi e 439 rubini Il Gresso Luxor Las Vegas Jackpot valore di un milione di dollari E' stato realizzato da Gresso, un rinomato produttore svizzero di cellulari di lusso, i miei coglioni A differenza degli altri però questo telefono ha un'ottima curiosità Infatti oltre all'oro al vetro in zaffiro possiede anche un legno pregiatissimo africano che ha oltre 200 anni di età Il Diamond Crypto dal valore di 1.300.000 dollari Ma non descriverò questa cacata Il Goldfish Lemillion dal valore di 1.400.000 dollari Posso dire che sembra la fusione tra una banana e un accendino zippo e che ha la forma di qualcosa che può essere inserito nel se... E' stato progettato dal designer Emanuel Goit nel 2006 e finito nel Guinness dei primati come il telefono più costoso al mondo Ma passiamo ai telefoni seri I 5 telefoni più costosi del mondo! Ma prima iscriviti iPhone 3G King's Button 2,4 milioni di dollari Troppo? Troppo poco? Non mi piace iPhone 3G Supreme Gold Striker da 32 giga al prezzo di 3,2 milioni di dollari Non lo compro perché 32 giga non mi bastano brutto figlio di putt... E come terzo classificato abbiamo l'iPhone 4 Diamond Rose dal valore di 8 milioni di dollari Al secondo posto iPhone Black Diamond dal valore di 15,3 milioni di dollari e sembra quello di prima Ma al primo posto... Devo leggerlo perché è lunghissimo iPhone 6 Falcon Supernova Pink Diamond dal valore di 95,5 milioni Praticamente l'azienda Falcon non ha fatto nulla, ha preso un iPhone oro e gli ha incastonato questo diamante della circonferenza di un cazzo Condividi questo video con un amico e lui ti regalerà uno di questi telefoni Non mi drogo Sono incredibile! Ha 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 ha